Michelle Obama protagonista ai Grammy Awards, ne parliamo sull'All News con me, io sono Elena. Protagonista indiscussa della 61esima edizione dei Grammy Awards è stata Michelle Obama, che a sorpresa è salita sul palco accompagnata da Lady Gaga, Jennifer Lopez, Giada Pinkett Smith e dalla conduttrice Alicia Keys. Michelle Obama è stata la donna più amata d'America nel 2018, il suo libro Becoming, uscito solo a novembre, ha veramente sbaragliato la concorrenza. E sul palco dei Grammy Awards ha detto La musica mi ha sempre aiutato a raccontare la mia storia, dai dischi di Motown, che ascoltavo da ragazza, a South Side Chicago, alle canzoni di Who Run The World, che mi hanno dato la carica in quest'ultimo decennio. La musica ci aiuta a condividere noi stessi la nostra dignità e i nostri dolori, le nostre speranze, le nostre gioie, la musica ci mostra che tutto ciò conta. Infine su Instagram ha concluso dicendo Per me l'amicizia è ritrovarsi insieme, che sia per un compleanno, una pausa sul lavoro o un'occasione importante come questa.